bentornati a tutti sul mio canale questa è la rubrica l'angolo degli esperimenti di before after iniziamo con una dovuta raccomandazione non fate questi esperimenti da soli soprattutto per i bambini fate in modo che ci sia sempre un adulto che supervisioni il tutto oggi parleremo di acqua e nello specifico dello stato fisico che essa può assumere in natura solido liquido e gassoso per l'esperimento serviranno poche cose dei cubetti di ghiaccio una caraffa in pirex una ciotolina in vetro ed un appendi resine da cucina con biadesivo disponete poi il tutto come vedete in figura inoltre ci serviremo di una fonte di calore che servirà per accelerare alcuni processi per una corretta riuscita dell'esperimento utilizzate la fiamma al minimo e assicuratevi che il diametro della ciotolina sia inferiore a quello dell'apertura della caraffa che sta al di sotto alla fine di questo esperimento avremo capito quello che normalmente succede in natura ovvero l'acqua dal suo stato solido ghiaccio diventa liquido quando raggiunge il punto di fusione a zero gradi a temperature più alte evapora fino arrivare all'ebollizione e a concentrarsi come gas nell'atmosfera subito dopo avviene la condensa dove le goccioline si riuniscono diventano pesanti e ritornano nuovamente sulla terra sotto forma di pioggia e il ciclo può iniziare iniziamo col prendere i cubetti di ghiaccio ed inserirli nella caraffa in pirex io ho utilizzato del ghiaccio come vedete verde poiché ho fatto ghiacciare l'acqua dopo averla miscelata con un colorante verde ottenendo così un effetto visivo migliore ponete la caraffa di vetro sopra il fornello e posizionato al di sopra la ciotolina non ci resta adesso che accendere il fuoco e attendere che il ghiaccio si trasformi in acqua e quindi Ormai tutto il ghiaccio è diventato acqua e questo si va ora trasformando in gas sotto forma di vapore aqueo salendo verso l'alto. Potete notare che la ciotolina si muove poiché è sospinta dalla corrente ascensionale calda che si è venuta a creare. Non ci resta che attendere che il vapore aqueo che si è formato in alto all'interno della ciotolina si condensi, diventi pesante e nuovamente cada sotto forma di acqua liquida all'interno della caraffa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Potete notare come alcune gocce d'acqua si stanno riversando nuovamente nella caraffa e a questo punto l'esperimento è concluso. Grazie a tutti per averci seguito e vi aspetto per il prossimo esperimento. se questo vi è piaciuto apponete un like e se volete condividetelo sulle vostre bacheche social.